Che le spazio investe in mezzo! Erdogan e la sua delegazione hanno firmato una serie di accordi bilaterali con l'Equador e discusso i dettagli della concessione del porto Bolivar a un'impresa turca. Il presidente turco ha partecipato al forum degli investimenti sottolineando il ruolo chiave di Quito per le relazioni di Ankara con l'America Latina e proponendo la Turchia come polo logistico per le esportazioni dell'Equador verso il Medio Oriente.